Ritorno al futuro con l'edilizia. Questo è il titolo scelto dal Collegio dei Costruttori Altoatesini per l'annuale Assemblea Generale tenutasi al centro civico di Oltrisarco a Bolzano, titolo sul quale si è puntato per indicare come il passato e gli errori commessi debbano servire da lezione importante per gestire meglio il futuro. Noi vogliamo proprio far vedere che dobbiamo pensare al futuro, che alla fine il futuro lo dobbiamo gestire e gestire si può solamente quando facciamo investimenti. Noi vogliamo far capire alla politica e anche alla popolazione che per il futuro dobbiamo investire per mantenere il livello di vita che attualmente abbiamo in Alto Adige. Ovviamente tutti in sala a chiedersi a che punto è la crisi. La sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, noi abbiamo indicatori che dicono che siamo arrivati al fondo, cioè ci sono già i primi indicatori che vanno verso rialzo, non sarà un rialzo veloce, non sarà un rialzo che ritorniamo ai livelli dove siamo stati, ma gli indicatori ci dicono che abbiamo attraversato il fondo. Le ricette proposte sono le più svariate, come noto alcuni sindacati propongono che l'ente pubblico dia vita a un maxi piano di risanamento del proprio patrimonio immobiliare per rivitalizzare il comparto edilizio. Sicuramente la pubblica amministrazione dovrà continuare a investire, probabilmente dovrà anche aumentare il budget per gli investimenti, perché sono investimenti per il futuro. La pubblica amministrazione non potrà coprire o essere tutta la richiesta, la domanda di costruzione, sicuramente deve seguire anche il privato, però la pubblica amministrazione può dare un segnale, può essere, può di nuovo investendo anche la pubblica amministrazione, può di nuovo coinvolgere anche il privato a credere nel futuro e per quello sicuramente i fondi dalla pubblica amministrazione per l'edilizia sono importanti, ma più che altro per creare questa credibilità nel futuro, quel positivismo.